Devo farvi una confessione ragazzi, mi sono proprio rotto le palle. Perché ammettiamolo, ok, è uscito il Mi 11, sono usciti gli S21, ma se non fosse stato per il Prodable Phone di Oppo, gli smartphone, ora come ora, praticamente sarebbero tutti uguali. Per questo mi sono messo alla ricerca spasmodica di dispositivi che potrebbero essere sfiziosi da provare, perché in effetti la tecnologia è proprio questo, cioè dare utilità alle persone. E mai come nell'ecosistema dell'azienda satelliti di Xiaomi potevo trovare la mia Eldorado grazie a dispositivi che uno magari non ci pensa neanche che possono essere prodotti, però in realtà sono prodotti e rispecchiano proprio la necessità di utilità della tecnologia. E oggi parliamo di un dispositivo stranissimo che qualcuno potrebbe pensare, vabbè sì, tu l'hai preso perché sei ipocondriaco. Ve lo dico, è vero che sono ipocondriaco, ma non è questo il motivo. Uno sterilizzatore di Xiaomi, ma uno sterilizzatore grande quanto un fornetto quasi, nel quale ci si può mettere veramente di tutto. Si possono sterilizzare le mascherine, si possono sterilizzare le posate, si possono sterilizzare i pad di PlayStation 5 e Xbox, si possono sterilizzare addirittura i tablet, e si può sterilizzare anche un Chihuahua. Non è vero, sto scherzando, sto scherzando. Ma prima di parlarvi di questo dispositivo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, chiederci quello che volete nei commenti, e se vi va iscrivetevi a JitsDeals, il nostro canale di Telegram, nel quale troverete decine di offerte tech, tra cui proprio quella relativa a questo dispositivo, un dispositivo che ho voluto testare non solo perché oggi come oggi è utile, ma può essere utile anche nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto perché costa poco. E il fatto che costi poco e sia utile, eh eh, allora funziona. Ok, comunque, io sono Dario Caliendo e iniziamo. Grande 32,5 x 29 x 39 cm e con un peso relativamente contenuto, l'aspetto dello sterilizzatore AUV ed ozono di Xiaomi sembra quasi quello di un forno elettrico, realizzato con un mix di materiali, tra cui troviamo l'alluminio, la plastica e il vetro, ed è caratterizzato da una struttura molto solida. Le zone laterali sono ricoperte da alluminio, mentre l'apertura frontale è protetta da uno strato di plastica ed integra un vetro in grado di filtrare i raggi ultravioletti. E poi ci sono una serie di tasti a sferamento ed un piccolo display LCD che permetterà di controllare la modalità di funzionamento ed il tempo rimanente alla fine del processo di sterilizzazione. Nei pressi della giuntura della porta sono stati inseriti dei piccoli LED che hanno lo scopo di illuminare la zona interna dello sterilizzatore, che è totalmente rivestita in alluminio 304 a specchio. L'idea di utilizzare un materiale totalmente riflettente come quello che è stato utilizzato all'interno di questo sterilizzatore secondo me è geniale perché permetterà di riflettere la luce emessa dalle lampadine UV Philips G4 T5 a 360 gradi in modo tale da avere un processo di sterilizzazione omnidirezionale, sterilizzazione che vi ricordo non avviene solo tramite UV ma anche tramite lo zono. Ma poi ci sono altre modalità di funzionamento delle quali vi parlerò subito. Quello che mi ha convinto poco però sono i piani di appoggio, che sì sono in alluminio, sono rimovibili, però sono stati realizzati con delle dimensioni poco precise. Per inserirli la prima volta nello sterilizzatore ho dovuto un po' deformarli con la mano, però insomma niente di particolare. Posteriormente inoltre è presente un ulteriore sistema di filtraggio con flusso d'aria che grazie ad un filtro ai carboni attivi è in grado di trattenere l'emporità e garantire aria fresca all'interno del cabinato. Il concetto di questo filtro più o meno è quello che c'è nei purificatori d'aria di Xiaomi. Come funziona l'aria? Prima di entrare nello sterilizzatore passa questo strato ai carboni attivi che dovrebbe purificarla, rimuovere batteri e anche renderla un po' più pulita in modo da garantire poi un processo di sterilizzazione veramente intuizionale. I tassi a sferamento anteriori sono 5 e permettono di regolare le diverse modalità di funzionamento del prodotto, però hanno un piccolo difetto, sono scritti in lingua cinese ed inglese, però si fa presto ad imparare ad utilizzarli. In soldoni il processo necessario per utilizzare lo sterilizzatore ad UV ed ozono di Xiaomi è molto semplice, basterà inserire gli oggetti che si vuole sterilizzare, accendere il prodotto e selezionare la modalità di funzionamento. Insomma, così il gioco è fatto. E ok, sì, lo so che a voler essere proprio puntigliosi il processo di sterilizzazione di un oggetto non è solo inserirlo in uno sterilizzatore, ma è prima pulirlo, poi disinfettarlo. Insomma, è un processo piuttosto lungo. Ma ei, non siamo dei chirurghi, personalmente io lo uso molto con lo smartphone e il tablet, soprattutto quando vado fuori per i viaggi stampa, eccetera. Cosa faccio? Quando torno a casa pulisco lo smartphone con un semplice panno imbevuto di alcol e poi lo sbatto nello sterilizzatore per terminare la pulizia. Ad ogni modo però, lo sterilizzatore di Xiaomi è stato progettato anche pensando a questo, perché le modalità di funzionamento sono 3, sono attivabili univocamente con un tasto dedicato e sono proprio sterilizzazione, asciugatura e stoccaggio. Quindi qualora ad esempio si fosse lavata una mascherina, ma si potrebbe strizzare e poi buttare nello sterilizzatore nel quale la temperatura può raggiungere un valore massimo di circa 55 gradi. Nello specifico poi il processo di sterilizzazione UV avviene in due fasi. La durata complessiva è di 7 minuti, per 5 minuti circa vengono utilizzati gli UV e poi per i restanti minuti viene utilizzato l'ozono. E quando viene utilizzato l'ozono si sente, perché si sente proprio l'odore dell'ozono e si sente soprattutto nei dispositivi che poi sono stati sterilizzati. Il prezzo dello sterilizzatore ovvio zono di Xiaomi è di circa 70 dollari, ma tramite il coupon che trovate in descrizione lo potete portare a casa molto molto meno. Vi invito a guardare il link in basso. E sì, lo sono uno di quei dispositivi che alimenta l'ai per l'acquisto, però siamo realisti. Come vi dicevo, lo scopo fondamentale della tecnologia è essere utile e non si tratta di essere ipocondriaci o fissati per l'igiene, ma è indubbio che mai come oggi avere in casa un prodotto del genere potrebbe essere una cosa veramente molto utile. E poi d'altre dimensioni è un dispositivo con il quale non solo si potranno sterilizzare, magari gli smartphone, i tablet, i pad delle varie console e così via. Ma potrebbe anche essere utile per la vita di tutti i giorni. Per esempio si potrebbero sterilizzare le posate, si potrebbero sterilizzare ad esempio i giochi dei bambini piccoli, i biberon, i ciucci e chi più ne ha più ne metta. Ok ragazzi, questo è quanto. Questo è lo sterilizzatore Smarta AUV e ozono. Smarta, come vi diceva, è un'azienda di Xiaomi. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Se il video vi è piaciuto, se vi siamo simpatici, vabbè, lasciate un pollice in su, fatecelo sapere. Mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video su JITS. Grazie a tutti.